Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan. Anzi no, è ancora lunga la strada per un nuovo accordo tra lo svedese ed i rossoneri. Lo sottolinea in modo deciso e clamoroso Mino Raiola, agente dell'attaccante, con un tweet in cui frena le voci di un'intesa. Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan, le parole del manager sui social network che accompagna l'affermazione con un'immagine con la scritta Fake News. Tra le richieste di mercato che il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha fatto pervenire sulla scrivania di Fabio Paratici, c'è il nome di Edin Dzeko. In attesa che si risolva la questione Higuain con il quasi inevitabile addio dell'argentino, il bosniaco è considerato il candidato ideale per affiancare Cristiano Ronaldo e Dybala nell'attacco bianconero. Dzeko però non ha ancora detto sì e soprattutto non l'ha detto la Roma. La nuova proprietà non sembra intenzionata a rinunciare al proprio capitano. Per cambiare idea serve un'offerta di almeno 15 milioni di euro, non pochi per un 34enne dall'ingaggio assalato come Dzeko. Il Manchester City sta preparando l'assalto a Leo Messi. Ne sono sicuri a ESPN e affermano che il club inglese sta studiando i conti perché sa bene che l'operazione sia molto complicata, ma vorrebbe approfittare del malcontento dell'argentino nei confronti del Barcellona. Il colloquio tra Messi e Koeman ha aperto altri spirali nei quali Pep Guardiola spera di inserirsi. Il contratto della Pulce scade tra un anno ed è fuori discussione la possibilità che il City paghi 700 milioni della clausola recissoria. Nella dirigenza blaugrana però c'è chi non vedrebbe di cattivo occhio una trattativa per la cessione di Messi. La Formula 1 ha ufficialmente annunciato il ritorno del Gran Premio di Turchia nel calendario del Mondiale 2020. Il Gran Premio di Turchia è tornato. La F1 farà anche due viaggi in Bahrain prima di dirigersi ad Abu Dhabi a metà dicembre. Si legge nel brevissimo messaggio diramato sui profili social della Formula 1. Dopo nove anni di assenza dunque Istanbul tornerà a far parte del Circus ospitando il Gran Premio della Turchia dal 13 al 15 novembre. Secondo quanto comunicato tra l'altro gli organizzatori stanno lavorando con ogni promoter per rendere accessibile a una parte di pubblico alcune gare del calendario 2020 rivisto e compresso a causa dell'emergenza coronavirus. La F1 ha anche confermato che in questa stagione non si correrà in Cina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.